Ed ebbene, eccoci qui con non solo il top 32 europeo, ma anche il top 16 oggi di World Cards. L'evento a Bologna. Eccolo qua, Simone? Sopole. Che ha giocato Matt Mè? Perché l'ho pagato il giro il giorno prima. Matt Mè? Ma cosa? Matt Mè? Possiamo vedere la profile? Spiega pure i ratei. Perché? Perché? 3 a diametro? Sì, sì, sì. 2-2, questo lo vedevo ogni volta che piccavo. 2 Sigma. 2 Sigma, molto bello. Sì. Molto bello. Poi il reparto che fa cagare. Perché questo? Spiegalo ai follower. Ogni volta che l'ho calato la gente ha detto è forte e io gli ho detto che faccia cagare. Sono d'accordo. Sì, non te lo neghiamo. Esatto. Cosa abbiamo? Questa è la carta più forte. Eccolo qua. Perché fa Bagusca? Sì. No, questa è più forte di circolare. Perché lo sto? Endrap che è il cuore del massimo. Spieghiamolo. Io chiudevo la combo così. Bello. 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 Allora, questo è Droll. Questo è Murner. Questo è Ogre. Ash. Beh. Qual è stata la più forte? No, di Murner. Perché Ash è più Gimbo. Qual è stata la più forte? Ash era forte in realtà. Io mi sembra si scarsi. Droll. No, no, Droll. 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 Va benissimo. Immagini tre mining perché sono secret. Perché? Sono secret. Ma perché tre mining in Madmec? Non lo so. Uno e uno perché... Perché sono? Perché sono? Perché adesso la domanda degli haters. Perché non giochi Small World con Kaiju? Perché mi piace. Preferisco Firewall perché... Bella risposta. Vai. Uno e uno. Perché? No, volevo giocare a due di queste. L'ho fatto un sacco di volte e ho fatto questo e... Sì. Ma volevo calare un secondo set... Ho fatto due ore? No, questo lo calavano in due tre volte. Questo l'ho fatto quando prima. Una perché voi fai normale and rip. Mingu Vibo. Sì. Che è stato più bella. Eh, in BliBri close, eh. Ma hai fatto quello che vuole. Questo mai faccio. Sì. Vabbè. Sì. Due spruzzo. Perché due? Perché uno è ultra e uno è common? O solo così? Tu sei un pezzo di me. L'America San Martino. Sì. Oh, dimmi. Update. Sì. Update. Parla. Sì. G-golem. Eh, questo perché... Ok. Non ascolta perché è un ***. No, eh. Questo verrà censurato. Censurato perché uno non è mio. Sai vedere il side deck che onestamente io critico. Per super samurai e per Samurai. Faceva schifo due secondi fa, però. E per Sprite. Sì. Poi? Sprite. Penso solo a Bando. Di Corvo. Perché è contro di me giochi Magnamut, eccetera. E qua Corvo, pezzo di merda. Perché con te diventerò 20 design. Ho capito. Poi, dato che ho ancora detto. Accetta a Luna di Noc. Quanti ne hai trovati di Castira? Molto bene. No, ma questa però ci ho vinto con pure. Vogliamo ricordare da cosa hai perso? Con la capola di Parapigredi ho fatto bucchia con Cess. Mi spieghi da cosa hai perso? Da due labirinti. Va bene. Vediamo le out per Spelletrap, vai. No, l'unica out ai mostri che ho fatto a labirinti è questa. Poi ho fatto Trasta 1. Fortissimo. Ha bestemmiato perché pensavo prendessi Spolverino, poi non l'ho preso. Perché è minuto. Certo. Ma che non c'è. Sei veramente grande. Niente, il marzo è forte. Vuoi ringraziare chi? Ringrazio tutti i ragazzi che vengono con me a giocare. Borch. Jack, Sam. E Ravios. Sì, bimbo Cosimo. Alla prossima ragazzi. È tutto.